ragazze ragazzi e anche voi genitori faccio un video messaggio perché credo che in questo momento ce ne sia l'esigenza in questo momento difficilissimo per tutti noi sembriamo tutti dentro un film di fantascienza dentro qualcosa che fino a un paio di settimane fa sarebbe stato impensabile siamo tutti chiusi a casa lontano dai nostri cari dai nostri affetti dai nostri amici a volte anche dai nostri parenti se vivono in comuni diversi siamo impossibilitati a fare la spesa siamo impossibilitati a fare tantissime cose impossibilitati o limitati bene in questo contesto io prima vorrei dire qualcosa ai ragazzi e poi qualcosa ai genitori allora voi ragazzi voglio dire che sappiamo qual è il momento sappiamo che è difficile anche per voi non solo per le vostre famiglie ma sappiamo anche che tutto quello che stiamo facendo noi docenti lo stiamo facendo per voi lo stiamo facendo per voi per non farvi perdere il senso di classe per non farvi perdere il senso del gruppo degli amici che si crea in una classe per non farvi perdere a me nel rapporto tra di voi ma tra di voi è il docente tra di voi è la scuola scuola che non è solamente quella che in qualche modo vi insegna la matematica l'inglese o la storia dell'arte no voi non andate a scuola per imparare solamente queste materie vanno andate a scuola per imparare ad essere bravi cittadini bravi cittadini oggi bambini domani ragazzi dopo domani adulti che in qualche modo dovranno sapere fare delle scelte e quindi saper pensare analizzare riflettere avere una propria opinione ragazzi tutto quello che stiamo facendo adesso con programmi al minimo con compiti ridotti all'osso perché in realtà ormai valgono quel che valgono e tutto questo serve per tenervi impegnato e per tenervi la vostra mente in allenamento per far sì che non state tutti i giorni sul divano o a letto credetemi che noi teniamo conto di tutto sappiamo che molti di voi si collegano col telefonino che molti non hanno i giga sufficienti che molti non riescono a spedire le mail e magari hanno bisogno di spedire con whatsapp o altri strumenti di comunicazione altri social tutto questo è messo in conto e di tutto questo noi teniamo conto ragazzi quindi state tranquilli siamo vicini lavoriamo assieme e ce la faremo ai genitori invece voglio dire qualcosa un po di diverso un po di più forse serio all'intanto grazie 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 perché sappiamo l'enorme sforzo che state facendo sappiamo che molti di voi erano abituati ad usare già in parte la tecnologia molti di voi invece si trovano completamente di fronte a una realtà che non conoscevano molti di voi stanno imparando adesso ad usare le mail a usare word qualcuno non sapeva nemmeno cosa fosse un programma di calcolo e lo dico anche per esperienza personale quindi credetemi tutto questo ce ne rendiamo conto state facendo un lavoro enorme con delle responsabilità in più e delle competenze che fino a qualche tempo fa non vi erano richieste quindi grazie grazie veramente per lo sforzo che state facendo su altro fronte voglio dire anche che lo so c'è chi pensa ma con tutto quello che stiamo passando adesso con i problemi anche economici perché noi sappiamo che in molte famiglie in questo momento non entra nemmeno più uno stipendio e sappiamo benissimo che ci sono famiglie al limite in questo momento e qualcuno di voi dice forse giustamente ma credetemi seguitemi nel ragionamento qualcuno di voi dice in questo momento con tutto quello che stiamo passando abbiamo problemi a mangiare a muoverci ad essere persone libere e qua c'è qualcuno che pensa alla didattica a distanza e a lasciare compiti come se questa fosse una priorità allora credetemi credetemi che la cosa va vista da un punto di vista un pochettino diverso intanto vi chiedo il favore di non caricare i ragazzi dei problemi e delle responsabilità che in questo momento ci sono a casa certo i ragazzi vanno responsabilizzati è quello che facciamo tutti i giorni a scuola però non vanno caricati di responsabilità che in questo momento avrebbero difficoltà anche a comprendere perché sappiamo le esigenze che ci sono all'interno di una famiglia sappiamo benissimo quelli che sono i problemi economici che in questo momento ci possono essere davanti dentro le famiglie ma i ragazzi non hanno colpa di ciò e se noi facciamo didattica a distanza è anche per impegnarli per non farli sentire soli per non abbandonarli per tenerli in contatto tramite le video lezioni piuttosto che tramite anche dei compiti compitini che vengono lasciati tenerli impegnati in qualcosa credetemi che questa questa funzione è fondamentale perché la scuola anche questa funzione quella di educare i vostri ragazzi a essere attivi a pensare a ragionare ad impegnarsi ok quindi io questo vorrei che fosse una cosa chiara chiara per tutti per cui veniamoci incontro un patto tra genitori e scuola tra genitori e docenti è un patto che serve per i vostri figli ci saranno incomprensioni ci sono cose che non sono chiare scriviamo ci parliamo comunichiamo affrontiamola assieme ma affrontiamole per i vostri ragazzi quindi a voi ragazzi ce la faremo vi assicuro che ce la faremo e andrà tutto bene a voi genitori grazie ancora grazie di tutto è in bocca alla lupa a tutte e tutti voi passerà tutto